Buongiorno, sono David, uno dei dottori del pronto soccorso al Dipartimento d'Emergenza del Royal Melbourne Hospital. Il Covid è una malattia seria, ma noi siamo qui per aiutare te e la tua famiglia. Per questo, ecco un po' di informazione che può aiutare la tua comunità, la tua famiglia e te stesso. È importante sottoporsi al tampone per il test se hai dei sintomi, come la mancanza del respiro o la perdita del senso, del gusto o dell'olfatto. Noi siamo qui per aiutarti e per prenderci cura di te. Chiama il 000 se i sintomi sono di natura grave o ti fanno sentire in pericolo di vita. Il test per il Covid è sicuro e non costa niente. Noi siamo tutti vaccinati, includendo le nostre famiglie. E noi vogliamo che tutti voi avete lo stesso livello di protezione che abbiamo noi. Il vaccino per il Covid è sicuro e non costa niente. Non hai bisogno della Medicare Card per ricevere il vaccino. Il vaccino è la migliore protezione che tu e la tua famiglia può utilizzare. Per favore, chiama il tuo dottore per prenotare un appuntamento per la vaccinazione. Oppure telefona al Dipartimento della Sanità sul numero 1-800-675-398 e poi premete lo zero se hai bisogno di un traduttore. Noi siamo impegnati a prenderci cura di te. Quindi, per favore, permettici di aiutarti. Prenditi il vaccino, fatti i test e vai dal dottore in caso di peggioramento di salute. Allora, qui è la possibilità della scara? Grazie a tutti.